Io sono stato tutta la notte senza dormire, fino a stamattina senza mangiare e fino a ora. Troppo ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni. Tu sei la donna della mia vita, io ti amo molto e spero stasera di uscire insieme a ti, per ricominciare tutto dal zero e soprattutto senza fare scimità, che ti vuoi fidare di me. Mi sono dovuto liberare per forza perché sennò non andavo più avanti per te e ho capito che tu sei la donna della mia vita. Io se dovevo uscire da qua, come sono entrata io non c'erco. È vero, ma pure io. Io, ok, potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma l'ho fatto data da quello che ho visto di te, dal primo giorno che sono venuta qua dentro. Io l'ho detto, ho sbagliato. Io dal primo giorno ho ricevuto bastonate, Giuseppe, dal primo, perché siamo venuti per un motivo e tu hai fatto un tattro. È vero, è vero, ma io mi prendo le mie cose. Sei consapevole che se usciamo da qui e le cose che tu hai detto qua non verranno mantenute, tu per la tua via e io per la mia, Giuseppe, perché io tengo 20 anni. Non ne ho più 12 anni, sono 7 anni che siamo fidanzati, la mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati e voglio tutt'altro dalla vita. Pure io.